Buongiorno youtuberi e bentornati qua sul mio canale, qui Max Salvato e oggi sapete cosa facciamo? Facciamo una bella tech review del Telesin All In Box che mi è arrivato pochi giorni fa direttamente da Telesin grazie a una collaborazione Per chi non lo conoscesse questo accessorio ci serve per ricaricare contemporaneamente due batterie per Canon In realtà funziona solo con le batterie LP-E6 ed LP-E6N di Canon Ho deciso di portarlo qui sul canale perché ritengo che sia veramente un accessorio assolutamente da avere per chi viaggia o per chi fa fotografie e video in giro per il mondo Infatti è certificato IP54 quindi protegge dalle gocce d'acqua, dallo sporco, dalla polvere e dai detriti È molto comodo perché con questo laccetto lo possiamo agganciare direttamente allo zaino e ci permette di ricaricare onde go le batterie ma non solo Non solo perché internamente ha anche due lettori di scheda SD che possono essere collegati con un attacco USB 3.0 per una lettura super veloce Anzi lettura e scrittura super veloce con il computer Tra l'altro oltre ad avere due postazioni per la batteria e due postazioni per la scheda SD Si può attaccare una terza scheda SD solo per il trasporto qui Non si perde niente con questo affare Mi siedo perché non ce la faccio più Tra l'altro nella confezione è presente anche un cavo USB 3.0 che non sto a tirar fuori ma è presente in ogni caso Come potete vedere io ho a disposizione due batterie patona Le vado ad inserire direttamente nel box Uno E due Non farà nessun click Ripongo E do sempre delle batterie con me Più o meno cariche perché a onde go possiamo attaccare un caricabatterie esterno al box E possiamo viaggiare per il mondo tranquilli senza nessun tipo di problema con le batterie Purtroppo disponibile solo per Canon ma Telesi mi ha confermato che a breve saranno disponibili anche per Sony e per Nikon Quindi restiamo tutti sull'attenti Vi lascio qui sotto nella descrizione il link per l'acquisto E insomma rapido video super veloce Era solo per mostrarvi quanto è figo questo coso Ne approfitto per invitarvi a venire direttamente sul mio profilo Instagram Perché di tanto in tanto potrei fare dei giveaway dei piccoli gadget che mi arrivano a casa Perché non mi interessa tenerli per me ma mi piacerebbe regalarli a voi Quindi vediamoci su Instagram perché non si sa mai che in futuro ci saranno dei giveaway speciali Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao